La Virtus Francavilla corre a grande ritmo, specialmente tra le muramiche della nuova Red Arena. Vuoi che i ragazzi di Taurino stanno giocando un campionato di alto livello, vuoi anche la spinta dei tifosi e degli Ultras che sono tornati a popolare gli spalti. I biancazzurri corrono tanto, ma soprattutto vincono. Quattro vittorie e appena due pareggi in casa, numeri importanti che confermano l'andamento positivo degli imperiali. Un trend che adesso andrà difeso proprio contro un'altra sorpresa del campionato, la Turris. I Corallini, quarti in classifica con 25 punti, sono una delle tante sorprese di questo torneo. Definita come l'Atalanta della Serie C, gioca un grande calcio e ha messo in difficoltà chiunque al di là del risultato. E la squadra che meglio ha fatto in trasferta, 13 punti raccolti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e appena due sconfitte. Ci sarà da soffrire la nuova Red Arena, ma di certo non mancherà lo spettacolo tra due squadre che giocano un grande calcio.